E' stata firmata nella serata di ieri la nuova ordinanza del governatore della campagna Vincenzo De Luca. La nuova disposizione viene fuori al termine di un incontro avvenuto nella mattinata di ieri con le organizzazioni sindacali della scuola, nel corso della quale è stata espressa piena condivisione per le misure adottate per prevenire e contrastare l'emergenza Covid. Nel corso dell'incontro, inoltre, sono state comunicate le prossime iniziative che riguardano l'ordinanza numero 82. Acquisiti i dati epidemiologici sulla campagna, che attestano un continuo aumento dei casi accertati, che in alcuni territori sono raddoppiati, nonché i dati relativi all'intero contesto regionale, rimangono ferme le disposizioni delle precedenti ordinanze sulla scuola, con due nuove decisioni però. Avvio immediato di progetti finalizzati alla didattica in presenza per i bambini autistici e con disabilità. Orientamento alla riapertura delle attività in presenza delle scuole elementari da lunedì 26 ottobre, subordinata a un'ulteriore verifica che sarà svolta nei prossimi giorni sull'andamento dei contagi registrato nel personale scolastico e negli alunni. Per quanto riguarda le altre decisioni relative alla prevenzione e al contrasto dell'epidemia, la Regione ha chiesto al Ministro della Salute di condividere e disporre la sospensione di ogni attività dalle 23 alle 5 del mattino e degli spostamenti dalle 24 a partire dal prossimo fine settimana sull'intero territorio regionale. Per i dati epidemiologici provenienti dall'area metropolitana di Napoli e in relazione al Comune di Arzano, sarà disposta l'istituzione della zona rossa nello stesso Comune di Arzano. Infine, per contrastare assembramenti e ridurre comunque la mobilità, l'ordinanza prevede la limitazione degli spostamenti interprovinciali, se non giustificati, previa autocertificazione da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socioassistenziali, approvvigionamento di beni essenziali.